Il bambino è più grande, ma? Ma no? Ma se vuole? Ma? E' un'imersione, tu? Ma no? E' un'imersione. Io non ho che più debolo che si può passare passando. Non è che si dice io che vuoi fare compito. Si dice, no, no, che fa do'è, ma dopo che con noi si mette la giusta. Sì, è stato un genitore che non fa come, ma non tutti sono così. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.